La famiglia Leonardi, sempre mossa dalla volontà di tendere all'eccellenza, oltre agli importanti ampliamenti dello stabilimento di Cameri, ha acquisito due storici caseifici artigianali, PAL e CLEAN, e una società dedicata solo al processo di stagionatura, la Ballarini, costituendo così un forte gruppo industriale. Questo importante traguardo ha spinto la famiglia Leonardi a creare un gorgonzola premium al quale ha deciso di dare il suo nome. Nasce così nel caseificio artigianale PAL, situato ai piedi del Monte Rosa, il Gran Riserva Leonardi Igor, un gorgonzola top di gamma che racchiude la passione, la tenacia, il rispetto delle tradizioni, la convinzione nelle proprie idee e la qualità del lavoro quotidiano della famiglia Leonardi. Il Gran Riserva Leonardi Igor ha un sapore dolce e ricco di sfumature esclusive, risultato di un'attentissima selezione delle materie prime, prodotto con metodi artigianali di lavorazione e con gesti sapienti che si tramandano da generazioni e che mantengono sempre vivo il valore dell'antica arte casearia.